In realtà il viso di Neda che con gli occhi aperti lascia questo mondo davanti a tutti è il problema di questa situazione. Perchè ha due significati molto importanti, il primo che lei è giovane, è una ragazza e i suoi occhi sono aperti verso il mondo. Il secondo che chi stanno facendo video lei al mondo intero non è il giornalismo professionale ma è la gente comunica. In realtà questa era una risposta al regime che aveva messo sotto il velo, sotto il polaro tutte le donne e le donne sono uscite e si sono dimostrate in questo modo. Aveva chiuso le strade e il Movimento Verde è uscito per le strade a dimostrare la sua forza. Aveva mandato in esilio noi come giornalisti, come professionisti per raccontare la nostra storia al mondo e si è creato il cellulare che ha potuto filmare ciò che è accaduto. Credo che togliendo l'aspetto violento a questa immagine triste, facendo vedere che il cellulare cosa può fare in eventi storici importanti, e so che questo movimento non chiede e non vuole da dire morte a uno o morte all'altro perché è un movimento pacifico, però credo che questa immagine può essere un lema per questo movimento. ... Iscriviti al Mischero che gli amici e i compagni più preziosi per i giovani iraniani sono i giovani europei, perché sono i giovani europei che li comprendono, ne capiscono.